Buongiorno! Oggi sono un po' messa così, si vede che è cambiato il tempo e il mio corpo ha reagito con un po' di raffreddamento generico Buongiornissimo, sono le otto e mezza, ho fatto colazione, mi sono svegliata, fuori fa freddino, infatti mi sono messa la felpa perché ho le gambe nude però ho la felpa, così posso tenere aperte le finestre Oggi è il giorno del primo esame e sono un po' saltate le ultime riprese però capitemi Questo primo esame non lo so, quindi ovviamente ce l'ho alle due di oggi pomeriggio E ovviamente devo ripetere questo esame assolutamente, ma poi non mi scoraggerò e inizierò a ripetere quello di domani perché è l'esame più importante domani Il tempo sta continuando a scorrere fuori di luvia C'è un tempo orrendo, sta piovendo da tipo tre ore e io ho anche il raffreddore, che bello Mi sembra giusto, quindi ora torno a letto a ripetere e basta, fra un'oretta mangio Evidentemente le preghiere sono state ascoltate perché ha smesso di piovere da un'ora ormai È mezzogiorno, niente, io ho continuato a ripetere un po', a ripassare le ultime cose Non mi sono ancora arresa all'outfit estivo, infatti continuate ad avere i pantaloncini con la make-up Adesso è arrivato il momento, devo vestirmi, mangiare e uscire per andare a dare questo esame di cui non ne ho davvero voglia Però vabbè, è da fare E vado, quindi ci vediamo dopo Ebbene sì, non potrei essere più felice di così Magari alla luce, ok? Sono tornata a casa in condizioni pietuose Il mio raffreddore sta solo che aumentando, ma va bene E non potrei essere più felice di così perché ho passato l'esame con 27 Ed è meraviglioso Un esame in meno, fantastico Chiaramente l'euforia comunque dura poco perché ovviamente devo studiare per domani tantissimo Sarò un po' meno sorridente domani secondo me Ma la pazienza Lo che farò sarà mettermi sotto Quindi direi che spengo e ci vediamo, non lo so, fra un po' di tempo Buongiornissimo La situazione è un po' complessa Sono alle 7.40, sono sveglia dalle 6.00-10.00 Quando ho degli esami molto pesanti e molto stressanti La mattina stessa mi sveglio sempre molto presto perché mi sento meglio Anche se in realtà non serve a niente Però è una cosa mia personale Vi registro ora perché mi sono un attimo Cioè un attimo assestata Sto per uscire di casa Quindi sono proprio alla fase terminale Della mia preparazione premorte E niente, vi faccio vedere come mi sono vestita Ho messo proprio due robe stra easy Mi sono legati i capelli con le porcine Poi li ho lasciati sciolti Ho messo questa che è di mia mamma Io di solito non ho vestiti così Infatti è così È lunghissima, arriva tipo qua E ho messo sotto questi pantaloni E non andrò in infradito ma metterò un sandalo Niente, io vi saluto Vado Non faccio nessun tipo di premessa Tanto ragazzi c'è un esame che veramente può andare come non Cioè Davvero Non so cosa aspettarmi Quindi amen Io vado e ci provo Se lo passo bene Se non lo passo lo ridarò Questa è la mia filosofia Anche perché non c'è altro modo per fare E niente Buono Ho preparato il mio zaino con tutti i libri Madonna mi sembra la maturità Ciao Buongiorno Oggi è Venerdì 12 luglio E Sì Colpa mia C'è stato uno stacco di un giorno Ma Voluto E Come avrete visto da Instagram Se non vi seguite mi chiamo MyTilly E Come avrete visto da Instagram Ragazzi È andato male È andato molto male E Io lo dico con il sorriso Perché ora vi racconto E Anche a voi sembrerà una storia strana Fate conto che L'abbiamo dato in 20 persone L'esame Non è assolutamente per Modesti o così Però Siamo 20 persone Eravamo insomma ieri Abbastanza quasi tutte Molto in gamba C'è persone che agli esami vanno Molto bene E O Mediamente bene Comunque La maggior parte di persone Vanno molto bene Tutti i bocciati Ragazzi È stata una cosa Tragica Cioè Tragicomica Non so A parte con raffreddore Ma Sul serio Tragicomica Perché è uscito il professore Con il suo foglio in mano E Saranno passate Io credo 6 persone su 22 7 Non lo so Non ho contato Ma veramente poche E noi eravamo lì così Non dicevano il nostro nome No Cioè ovviamente Non l'han detto E quindi Eravamo lì tipo Il nostro nome Vabbè insomma Ragazzi Per farvela breve Non ho Non abbiamo Poi è stato lo scritto È stata una giornata Molto Strana Ieri E Non mi era mai successo Di essere bocciata Ero già stata bocciata Ma ad un altro esame Doppio Cioè con doppia materia Quindi Una materia Mamma mia Scusate Una materia L'avevo passata E una no Quindi insomma Lì c'era un po' L'amarezza Neanche troppa Questo è proprio Una bocciatura così Secca Tac Non mi era mai successo E Cioè Ho reagito In una maniera Un po' strana Tipo i primi Cioè le prime ore Ero insieme a tutti gli altri Eravamo lì Incazzati Che comunque Cioè allo stesso tempo Ridevamo no Perché dicevamo Vabbè Ormai è andata male Però insomma Insulti Cose Eccetera Poi Da sola Quando ho abbandonato tutti E ho detto Vabbè Vabbè Vada a fare un po' Di shopping Perché ho bisogno Di distrarre la mente Ho trovato qualcosina Poi vi farò vedere Da sola Ragazzi Mi è salita una rabbia Ma una rabbia Proprio mi è venuta La crisi di pianto Cioè isterico Praticamente Perché Dici cavolo Mi manca un esame Alla fine del secondo anno E tu lì mi bocci Assurdo Mi sono incazzata nera Perché volevo dormire Almeno oggi Sono le 8 e 40 E Sono anche già in ritardo Ma Non me ne farega proprio nulla Per andare Sto andando a correggere L'esame di ieri Correggere nel senso A vedere Cosa ho sbagliato Così Una volta per tutte Mi spiegherò Il motivo Per cui mi hanno bocciata Cioè Tra l'altro Ragazzi È una pianificazione Assistenziale Quindi è una cosa che Noi abbiamo fatto Tutto all'anno Cioè ci siamo esercitati Sì va bene La fai bene E poi mi bocci Assurdo Sto indossando Uno dei nuovi acquisti Che è un vestitino Di terra nova Con questa Fantasia Con dei fiori È molto molto carino Vabbè sotto Ho messo i sandali E Sono le 8 e 40 Dovrei esserla Alle 9 Ma Appunto Arrivano tardi Ma non mi interessa E E niente Vi voglio far vedere questo Poi dopo Con calma Vi Faccio vedere tutto Io sono Innamorata Anche queste L'ho messo su Instagram Quindi L'avrete già visto E Me l'hanno regalato Mia zia e mia nonna E In realtà Era una sorpresa Per gli esami In generale Che poi Uno è anche andato bene Ho preso 27 Ieri L'altro Però Vabbè Lasciamo stare Quindi mi ha Sollevato un sacco Il morale Ma poi ve ne parlerò Adesso vado Mi lavo i denti Ed esco Ecco Il caffè ormai è finito Però la mia stella giù No Non ancora Bene Cosa ci dici? Possiamo fare colazione Sei contenta? Ti ho scelto E' tornata su YouTube Niente ragazzi Poi dopo vi racconto Com'è andata Questa mattina Adesso basta Non ne parlo più Facciamo colazione Insieme Perché ne voglio un'altra? Bravo Giugli Così si fa Andiamo a fare la spesa? Andiamo? Guardate com'è Com'è felice Andiamo? Andiamo? Mi sa l'amore Lo si è qua 15-40 Poi torno a casa Mi metto a cucinare qualcosa Perché oggi Mangio con papà C'è un po' di spesa Poi cucino appunto Per me e papà E basta Ho giù pomeriggio palestra E stasera ambulanza Quindi in realtà Sarà un bel pomeriggio Proficuo Bene Andiamo Musica Eccomi sono tornata E ho un pochino più di calma E tranquillità Con la quale parlarvi Vi volevo far vedere appunto Il regalo Che mi hanno fatto Ieri La sorpresa Di cui vi parlavo prima Che assolutamente Non mi Cioè non mi sarei proprio mai aspettata Ma poi Mia zia mi ha fatto questo regalo Sono rimasta molto molto stupita Non me l'aspettavo E Super felice Vi faccio vedere come sono Praticamente hanno la loro custodietta Il loro ovetto Non so come chiamarlo Poi si aprono E dentro c'è le due cuffiettine Poi Niente La lucina verde Vuol dire che Sono cariche E quando sbloccate il telefono Cioè così Aprite Esatto E appena chiudete Chiaramente Scampare E' tutto bluetooth Quindi Chiaramente va sempre tenuto Acceso il bluetooth E ve lo mettete nelle orecchie Accendete il bluetooth E parte la musica Adesso le devo un po' Imparare ad usare Chiaramente Perché sono Incapace Ho fatto la spesa Ho preso praticamente Solo delle verdure Le cose così Per oggi Del pane Niente di rilevante Della frutta E ora mi metto a montare Un po' tutti i vlog Perché sto vloggando Da Veramente un sacco di Di tempo Da giorni E vorrei cominciare A caricarmi qualcosa Quindi adesso Inizio a montare Quello che riesco Sono molto Proud Oggi Of myself Perché Sono riuscita a editare Ben due video Non uno Ma due Di cui Uno Lo ho Certo Praticamente Caricato Quindi Oggi sono Molto Molto Contenta Sì Tre e mezza E io sto Andando in palestra Ho già preparato La borsa Prendo l'acqua Le chiavi Della Bici E Si parte Niente Ci vediamo dopo Ok Sono tornata Sono viva Finalmente Ho ripreso Possesso Dei miei ricci Volevo in realtà Dormire un'oretta Perché poi stasera Ho ambulanza Quindi Niente Penso che aspetterò Un attimo Che qua La situazione Si stabilizzi Si asciughi E poi dopo Mi metto Un po' La nonna Ho mangiato Una vera pizza Quindi Niente Ci hanno consigliato Un posto Speriamo Di Trovarlo E Basta Qui stasera Scena Ci facciamo un po' Un piano d'azione Per questi giorni Si va Sono troppo felice Di tornare Finalmente Ole Andiamo Un piano d'azione Un piano d'azione Grazie a tutti